Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 21 gennaio 2019 Siete su Fano TV, canale 17 del Digitale Terrestre Partiamo subito con il Santo del Giorno Oggi è una santa molto famosa, importante, Sant'Agnese Sant'Agnese che visse tantissimo tempo fa Adesso voglio darvi anche l'anno esatto Andò martire e aveva 12-13 anni circa Non ci sono molti dati certi su questa biografia Era un'adolescente però romana Che era stata messa a morte durante la persecuzione di Decio o di Valeriano È anche patrona dei giovani, della castità, dei giardinieri e anche degli ortolani Il sole è sorto alle 7.35 e tramonterà alle 17.02 Andiamo a vedere il tempo perché il cielo sarà oggi nuvoloso, molto nuvoloso C'è pioggia su tutta la parte, su tutta la costa Adriatica Ma c'è anche tanta neve che inizia a scendere Che continuerà a scendere per i prossimi giorni Il limite delle nevicate infatti oggi sarà intorno ai 700 metri Però scenderà intorno ai 500 metri in serata Nel settore meridionale invece il limite delle nevicate sarà intorno ai 900 metri In discesa intorno ai 700 metri Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì ancora neve sulle montagne Però arriverà neve mista a pioggia anche sulla costa e comunque in pianura Fenomeni intensi anche lungo la costa nella giornata di domani Le precipitazioni infatti saranno generalmente deboli, diffuse Però anche a carattere di rovescio con fenomeni a tratti più intensi Come dicevo, lungo la costa Il limite delle nevicate è attorno ai 300-400 metri a sud Quindi la situazione già da martedì sera comincia a essere un po' complicata Così come mercoledì quando persisteranno le nevicate soprattutto in montagna Avremo la neve intorno ai 600 metri Insomma 6-700 metri Le temperature sono in diminuzione ovviamente Per effetto di questo ingresso di aria fredda dalla Groenlandia La situazione per i prossimi giorni Avremo indicazioni di un temporaneo miglioramento solo venerdì Considerando che oggi è lunedì Avremo gran parte della settimana dunque con tempo brutto Venerdì e sabato dunque migliorerà un po' Poi pare che ci sia un transito di perturbazioni atlantiche Con conseguente tempo instabile Quindi insomma siamo nel pieno dell'inverno E la situazione non può che essere questa che stiamo vivendo E le prossime che vivremo saranno giornate ovviamente di pioggia E di neve oltre che di freddo Andiamo a vedere i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro Con la cronaca Cappotta e finisce nel fosso Grave il passeggero dell'auto È successo a Pesaro A centro pagina la vittoria della VL Dunque il cambio di allenatore sicuramente ha portato bene alla squadra pesarese Una vittoria fondamentale per loro nella corsa salvezza E poi vedremo la minaccia che un gestore di una pagina Facebook ha ricevuto Gli è stato messo un gatto morto al cancello Però lui dice assicura io quella pagina non la chiudo E poi vedremo il Bombadei ad Ancona Dove questa evacuazione di circa 12.000 persone Non ha fatto altro che riempire i centri commerciali La pagina di Fano invece apre con la clinica privata Che è alla quarta prova in consiglio comunale Il sindaco Seri è sul filo del rasoio Il rasoio domani la variante arriverà in consiglio La maggioranza ha solo un voto di vantaggio Per il no di tre suoi esponenti Che sono Laura Serra Capogruppo della lista del sindaco Noi Città Carla Luzzi Capogruppo di Sinistra Unita Riccardo Severi Consigliere indipendente della maggioranza Quindi sulla carta ci sono 13 voti contro 12 Il consiglio comunale come dicevamo domani alle 19 Discuterà la variante per una clinica da 10.000 metri quadrati Che onora l'impegno assunto dal sindaco Seri Con il presidente della regione Ceriscioli Nel protocollo intesa sull'assetto ospidaliero Dopo la costruzione del nuovo presidio di Marche Nord E firmato il 5 giugno 2018 Tutti i dettagli di questa notizia sul Corriere di questa mattina Poi la carnevalesca che cambia, modifica lo statuto Dopo 20 anni mette di nuovo mano alla carta Che regola l'attività di questa associazione C'è un'assemblea straordinaria in programma domani alle ore 21 Nell'ex chiese di San Lorenzo in via Cavour a Fano Gli amministratori non rispondono degli atti con i beni privati Facendo questa modifica E questo statuto regola un po' il nuovo rapporto anche con i carristi E immaginiamo che domani la presidente Maria Flora Gianmarioli Andrà a questa riunione con il cuore in gola Perché? Perché la notizia di spalla che pubblica il giornale questa mattina Parla della morte della mamma di Maria Flora Gianmarioli È avvenuta l'altro giorno a 85 anni Parliamo di Carla Fucci Fondò con Maria Flora la bugia La salma è morta l'altro ieri a 85 anni Nell'ospedale di Torrette di Ancona La salma è già stata composta nell'obitorio di Fano E domani verrà trasferita nell'abitazione in via Cavour 63 Dove sarà allestita una camera ardente Poi alle 15 nella chiesa di San Paterniano ci sarà il funerale Madre e figlia unite dalla stessa passione per il teatro Sbanda con l'auto e precipita in un fosso È successo ieri nel primo pomeriggio lungo la strada della Chiusa Che porta da Villa Ciccolini a Monte Labate Intorno alle 14.30 Ferito in particolar modo un 51enne Che ha subito un trauma cranico Ed è stato portato all'ospedale di Torrette con l'elicottero in codice rosso Viaggiava dietro nel sedile dietro passeggeri Mentre guidava il fratello minore Un uomo di 43 anni Sul posto anche la Potes di Montecchio I vigili del fuoco e la polizia municipale di Pesaro Sulla sosta selvaggia al porto invece Dopo le multe e le barriere Siamo sempre a Pesaro Raddoppiate le sanzioni alle auto La capitaneria chiede dissuasori lungo i 100 metri di strada De Magnale Il capitano comandante del porto Maurizio Tipaldi Parla e dice anche che gli spazi per i parcheggi ci sono in quella zona Gli indisciplinati creano pericoli Specialmente d'estate Nell'ultimo trimestre del 2018 Sono state elevate 202 verbali Contro gli 82 dello stesso periodo Dell'anno precedente La lista Che poi non è una lista Perché Giovannelli dell'associazione Apreti Pesaro Ha già detto Annunciato che probabilmente Non ci sarà nessuna lista In vista delle prossime amministrative A Pesaro In una riunione ristretta E prevalsa l'ipotesi Di non scendere direttamente in campo Avviati incontri con altre forze politiche e movimenti Escluso l'appoggio alla destra E a proposito di destra Che ha presentato il suo candidato nei giorni scorsi Di cui parleremo stasera nel telegiornale Daniele Vimini dice Solita destra Senza idee Dai toni estremi E un po' triste Hanno scelto Baiocchi Per non intestarsi La sconfitta E sempre Restando sulle pagine di Pesaro E al porto O meglio Un po' fuori dal porto Sul mare Comunque le scogliere di Ponente Possono Possono aspettare Ci sono ritardi Comunque recuperabili Ammette L'assessore Che dice Sì I soldi ci sono Ci sono 430.000 euro In totale Ma i lavori Possono partire Solo dopo La fine della prossima stagione estiva Nei prossimi mesi Intanto sarà bandita La gara Per l'assegnazione Dei lavori Dicevamo del Bomba Day Bomba Day Queste sono due pagine Del Corriere Adriatico Di questa mattina Il titolo Tanto rumore Per nulla L'evacuazione Di 12.000 persone Dalla zona rossa Iniziata alle 5 del mattino Alle 2 del pomeriggio Ad Ancona Era già tutto finito Quasi deserti I punti di raccolta Organizzati dal comune Tutti in pratica Sono andati Al centro commerciale Il sindaco Dicono C'erano più assistenti Che assistiti Poi l'ironia social E le proteste Neanche fosse La bomba atomica Una task force Di 340 persone Volontari I malati Sono già rientrati Nelle abitazioni E il Corriere Adriatico In queste due pagine Racconta Com'è stata La giornata Di ieri Ora per ora Poi Questo ordigno Questo ordigno Di 230 libri Mi pare Della seconda guerra mondiale È stato fatto brillare In una zona In una cava A Iesi Andiamo adesso Sulla pagina Di Vallefoglia Scoppio di Montecchio Monito Contro la guerra Oggi la cerimonia Per rendere omaggio Ai 30 morti E al coraggio Del caporale Placido Oggi ricorre Il 75esimo Anniversario Dello scoppio Di Montecchio Che provocò Oltre 30 morti Nella drammatica Vicenda della seconda Guerra mondiale Il sindaco Palmi Rucchielli Ha fortemente Voluto Invitare Tutta la cittadinanza A partecipare Alla cerimonia Intitolata Mai più Guerre Andiamo Sulla pagina Di Urbino 100 milioni Per la ferrovia Come una via Da 5 chilometri Come dire Non costa poi Così tanto Il Movimento 5 Stelle Sulla riapertura Della Fan Urbino Costa come La circonvalazione Di Urbania In questi giorni Dopo l'approvazione Della mozione Nel Consiglio Comunale Di Fossombrone Sulla riattivazione Parziale Del tratto ferroviario Fan Urbino A scopo turistico Utilizzando la soluzione Del ferrociclo O bicitreno Come dir si voglia Insomma Si è riacceso Il confronto Fra i sostenitori Della riapertura Della tratta E gli oppositori Gli oppositori Che soprattutto Fanno leva Sul fatto Che Riattivarla Costerebbe troppo La vicenda invece Che ha fatto tanto discutere Sabato Dell'arresto Da parte dei carabinieri Urbino Del cardiologo Di un cardiologo Di 68 anni Per violenza Sessuale Su nove pazienti Poi se ne sono aggiunte Nel frattempo Altre due Altre due donne Quindi siamo Ad 11 Il rilievo Degli inquirenti Potrebbe essere decisivo Per il cardiologo Per il cardiologo E infatti Si aggrava La posizione Di Valentino Ferri 67 anni Accusato di violenza Sessuale Aggravata su nove donne Vittime Dei suoi presunti Palpeggiamenti Con l'aggiunta Di due nuove denunce Da parte Dei pazienti Di pazienti Che hanno raccontato Agli inquirenti Di essere rimaste vittime Degli stessi palpeggiamenti E adesso Si valuta Più o meno Il discorso Della procedura Medica Operata Da questo cardiologo E tra l'altro Gioca a suo sfavore Il fatto che L'arteria femorale Che si sente Vicino al linguine Non la controllava Agli uomini Ma soltanto Alle donne E questo Chiaramente Non gioca Dicevamo A suo favore Gatto morto Legato al cancello Non chiuderò La pagina Facebook Parla Andrea May Gestore di un gruppo Social di terre roveresche Che denuncia Intimidazione Lui dice Ho trovato un gatto morto Legato al cancello Della mia abitazione A Orciano La sorpresa Per nulla piacevole Ha tutto il sapore Di un'intimidazione Lui dice però Non è la prima volta Che qualcuno Cerca di Sopprimere Questa pagina Continuate pure Con il passaparola Fate voi Ma ricordatevi Che i primi cittadini Siamo noi L'annuncio è stato dato In un post L'episodio ritenuto Collegato Al dibattito Sulla difesa Degli animali Portone della chiesa Ripulito Ma c'è disagio Siamo a Mondolfo Residenti Preoccupati Per gli atti Di vandalismo Altro fatto A Montepozzo Insomma È allarme Nel centro storico E nella periferia Di Mondolfo Prima il presepe Con il rogo Alla capanna Della natività In largo Neviera Poi lo spray Con cui I gnoti Hanno imbrattato Il portone Della chiesa Di San Sebastiano Insomma Sono gesti Evidentemente Che preoccupano Un po' I residenti Di quella zona Da Senigallia Giacomelli Cavalli E la scuola del Misa A Senigallia La biennale Della fotografia Primo appuntamento Nel 2020 Ma per questa primavera Il comune Pianifica Un'anteprima Palazzetto Baviera Palazzo del Duca Ed ex Pescheria Le seti Destinati Al preludio E poi Ad Ostra Scatta Il restyling Del Palazzo Comunale Via Libera Della Giunta La messa in sicurezza Il costo Previsto 170.000 euro E adesso Andiamo invece A vedere A leggere Il resto del Carlino In primo piano Il colpo Salvezza Della VL Parliamo di basket La VL sbanca Infatti a Pistoia L'effetto Boniccioli Quindi il nuovo allenatore Continua A produrre Buoni risultati Diamanti truffati Gli investigatori Il caso Pesaresi Perdono tutto Adusbef Invece Querela Le banche Poi Un pensionato Che doveva pagare 60.000 euro All'agenzia delle entrate Però Con corsi E ricorsi Ha vinto E quindi Non dovrà Più pagare E poi si parla Di una squadra Una squadra Che è stata Intossicata Tutti Finiti a Fano Alla camera Iperbarica Allora Dicevamo Di questa storia Una batosta Per un uomo Di 60.000 euro Il giudice però Dà torto All'agenzia delle entrate E l'agenzia Dovrà pagare Pure le spese legali Erano cartelle Settoriali Che risalivano Addirittura Al 1992 1993 Una somma Che aveva superato Circa i 60.000 euro E A un pensionato Settantenne Ex dipendente Poi coltivatore diretto Tutto questo malloppo È stato notificato E consegnato A maggio Dell'anno scorso Ha cominciato però A imbracciare Insomma Queste cartelle A impugnare Queste cartelle Ha fatto ricorso E ha vinto Tutti i dettagli Sul giornale Di questa mattina Dicevamo Di questa squadra Di calcio Intossicata Sei atleti In camera Iperbarica È successo A Chieti Tutti ricoverati Affano Nessuno In pericolo di vita Nella struttura Però Sono rimasti Diverse ore Poi C'è un'altra versione C'è un seguito Polemico Sulla ricorrenza Dello scoppio Di Montecchio Che verrà celebrata Oggi Appunto A Montecchio Per ricordare Un evento tragico Della seconda guerra mondiale Lo scoppio Della polveriera Il 21 gennaio Del 1944 Che costò la vita Ad oltre Trenta persone Secondo Dante Fu un attentato Sotto invece La giunta Bonci Si parla Siamo a Fossombrone Proprio leggerina La minoranza Attacca Pochi investimenti E pochi incassi L'altra pagina Del resto Del Carlino È sulle prossime Amministrative Il voto Affano Centrodestra Grandi manovre Per la Tarsi Gli alleati Certi Gli incerti E i battitori Liberi Anna Marchetti Questa mattina Fa un Resoconto Di quelli che sono I movimenti Delle ultime ore Forza Italia Fratelli d'Italia Lega Nuova Fano Sono sicuri L'incognita Del vecchio Che Non è deciso In quale lista Si candiderà Tutti uniti Forse Nella lista Di Tarsi Non si sa Il nodo Forse si scioglie Stasera Intanto La novità È che nasce La sezione fanese Di Italia in Comune Quella del Sindaco Ex grillino Di Parma Federico Pizzarotti Dunque La coordinatrice Fanese Di questa Italia in Comune E sarà Elisa Bilancioni Ex pentastellata Fanese E poi Tante altre Notizie Come quella Dell'addio A Carla Fucci Una vita Per arte Teatro Aveva 85 anni E la madre E la madre Di Maria Flora Gian Marioli E poi Lo sport Torniamo sul Corriere Adriatico Velocemente L'impresa WL Blizza Pistoia Seconda vittoria Per Bonniccioli Salvezza Già molto più vicina Grande Lube Invece A Trento Ha vinto Contro La campione Del mondo La squadra Campione Del mondo La squadra Guidata Dal tecnico Dal coach Fanese Lorenzetti Si torna dunque A sognarle Per la squadra Di Civitanova Marche La squadra Di De Giorgi Vince 3 a 1 In casa Appunto Come dicevamo Dei campioni Del mondo L'unica bomba Riprendo il titolo Di un articolo Sul Corriere Questa mattina L'unica bomba È l'Anconitana Cala il poker Scatta a più 7 Sul Vigor L'Ascoli Invece Gioca bene Ma non grafia Il pareggio Nel fango Di Cosenza È comunque Un buon risultato Per quanto riguarda Il Fano E la Vis Pesaro Parliamo sempre Di calcio Domani Alle 20.30 L'Alma Riceverà la visita Del Sud Tirol Che non ha ancora Individuato nel mercato Le rede Dell'ex vicino Costantino E non Sta attraversando Il suo Miglior periodo Mentre Alla stessa ora La Vis Toccherà la Samb Attesa Al Benelli A Pesaro Sull'onda Di 10 risultati Utili Consecutivi Fano Explore Per la storia Vis Ancora Con il mal Di gol Dicevamo Della gioia VL Che vale Doppio Questo è il titolo Sul Corriere Adriatico E il titolo Invece Per la Lube È Lube La Lube È uno Spettacolo Vince anche In Serie A2 La Golden Plast Potenza Picena In una partita Davvero Bella Molto intensa Con tanti colpi di scena Che vi trasmetteremo Questa sera Intorno alle 22.30 Dopo il telegiornale Di mezzasera E dopo la diretta Con il sindaco Di San Costanzo Margherita Pedinelli Che questa sera Sarà ospite Di Primo Cittadino Con Simona Zonghetti Grazie per essere stati con noi Vi auguro una buona giornata Ci vediamo stasera Grazie a tutti